Con l'approvazione nell'ultimo consiglio regionale della nuova rete ospedaliera, anche la provincia di Teramo è stata interessata nel nuovo strumento di programmazione sanitario. Fondamentale è il ruolo che svolgerà l'ospedale Santa Maria dello Splendore di Giulianova, unico sulla costa teramana e che soprattutto nella stagione balneare ha numeri importanti. Non so come Giuliese che resta ospedale di base e che non subisce tagli drastici come chiusure di reparti, mentre entro un mese e mezzo verrà riaperta la RSA di Vivio Bellocchio, come conferma il sindaco Ivan Costantini. Siamo l'unico ospedale della rete ospedaliera della AS di Teramo che non ha tagli, quindi quello che avevamo detto ai nostri cittadini e a tutte le persone che sono attente alla sanità della nostra provincia è stato in pieno rispettato. Mi fa piacere poter dire che io sono il primo sindaco che non ricorda tagli all'ospedale, non ricorda chiusure e accorpamenti di reparti, ma addirittura posso parlare di nuove aperture, nuovi primarie che sono arrivati come la lungodeggenza che finalmente ha un primarie. Oltretutto nella pianta organica dell'ospedale di Giulianova non abbiamo mancanze. Io nel 2019 ho fatto un fitto lavoro insieme al direttore generale Maurizio Di Giosì, al direttore sanitario Maurizio Brucchi e all'assessore Verì per cercare di completare questa pianta organica che aveva delle carenze in ogni reparto di medici e infermieri. Oggi così non è, quindi ringraziamo sia la regione Abruzzo che la AS di Teramo, che oltretutto ha fatto uno sforzo in mano e non ce lo dimentichiamo perché a Giulianova l'RSA del Bibo Bellocchio che ha un costo di circa 2 milioni di euro all'anno, 17 anni chiusa dalle amministrazioni di centro-sinistra e di centro-destra che si sono alternate, anche qui con una fitta collaborazione tra l'amministrazione comunale e la AS di Teramo e la regione Abruzzo, l'RSA del Bibo Bellocchio tra un mese e un mese e mezzo sarà inaugurata e darà delle risposte concrete per tutta quella mobilità passiva che riguarda le problematiche legate all'Alzheimer.